Musica Proseguono gli appuntamenti della settimana Santa Gela, oggi fino alle 20.30 le porte della Chiesa del Rosario saranno aperte fedeli per il tradizionale bacio dei piedi. Alle 21, processione della Chiesa del Rosario tra le vie del centro storico e il rientro delle figi del Signore e della Madonna in Chiesa Madre, dove alle 23 si terrà l'adorazione eucaristica comunitaria. Musica Cittadinanza onoraria di Recco, comune della Liguria, della città metropolitana di Genova, per il colonnello dei Carabinieri Antonio De Rosa, alla guida del reparto territoriale di Gela. L'amministrazione comunale ed il Consiglio comunale gli hanno attribuito l'onorificenza dopo i tanti anni di servizio dell'ufficiale nella zona. Il dopo di noi è il tema del convegno dibattito che si terrà giovedì 5 aprile alle 18.30 nei locali della Scuola Media Enrico Mattei di Gela. L'iniziativa è del CESVOP, Protezione Civile, Associazione Il Gabbiano, Rotary International e Associazione Progetto H. Modellerà i lavori la psicologa Eliana Orlando, responsabile territoriale del CESVOP provinciale di Caltanissetta. Musica Uguali e differenti, una riflessione sulla migrazione di ieri e di oggi. Si tratta del musical Camicette Bianche, scritto e diretto da Marco Savatteri. Appuntamento al Teatro Comunale Eschilo di Gela il prossimo giovedì 5 aprile alle 18.00. L'ingresso è gratuito. L'iniziativa porta la firma dell'Associazione Gela Famiglia, della Casa del Volontariato, del Comune e del CESVOP. Musica Martedì 10 aprile alle 10.00 nei locali del Museo Archeologico Regionale di Gela verranno presentati i reperti subacquei recuperati dalla soprintendenza del mare nel corso delle campagne di indagine svolte negli ultimi anni in collaborazione con la Guardia di Finanza di Palermo, la capiteria di Porto di Gela ed il subacqueo gelese Francesco Cassarino. Tra gli altri verranno esposti i due elmi corinzi provenienti dai fondali di Contrada Bulala. Si tratta di due oggetti molto simili tra loro, inquadrabili nella tipologia dell'elmo diffuso in Grecia tra il 650 ed il 450 a.C. La mostra sarà inaugurata dal soprintendente del mare Sebastiano Tusa e dal direttore del Museo di Gela, Ennio Turco. Il restauro di alcuni dei reperti esposti è stato eseguito grazie al supporto del club per l'UNESCO di Gela. Musica Resital del chitarrista Elio Lombardo domenica 8 aprile alle 19 nei locali del Palazzo Principessa Pignatelli Roviano di Gela nell'ambito dell'84esima stagione concertistica promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra con il patrocinio dell'assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo e del comune di Gela. Ottimi risultati per l'atletica Gela presieduta da Luigi Morselli alla maratonina di Donna Lucata valida come seconda prova delle Grand Prix regionale che si è svolta domenica scorsa. Ilva Cicarelli ed Angelo Mendola sono giunti i primi nelle categorie F55 ed M65, secondo posto per Laura Granvillano nella categoria F45. F55